Un settore molto maschile e quindi c'è ancora molto spazio per le donne per poter crescere nel loro ruolo all'interno di questo settore. Noi siamo dei grandi supporti, in borsa ovviamente le donne ce ne sono già tantissime, abbiamo dei obiettivi e ambizioni anche a livello di gruppo, come l'omborso che scelgo il gruppo, ma credo che sicuramente in Italia le donne devono ancora fare molto per assumere dei voli di maggiore importanza nel settore finanziario, perché in altri settori sicuramente sono già molto più rappresentati e nel settore finanziario ancora non abbastanza.